Hanno dato il buon esempio e dimostrato che con un piccolo gesto si possono salvare vite altrui o comunque contribuire a migliorare quella di chi sta peggio. Mercoledì mattina gli uomini della Guardia di Finanza della provincia di Pesero Urbino e alcuni membri della CNA di Fano, tra cui il presidente e il responsabile locale, si sono recati al centro trasfusionale dell'ospedale Santa Croce per il Donor Day organizzato dall'Avis di Fano. Spirito di servizio e solidarietà hanno contraddistinto ancora una volta i servitori dello Stato e coloro che lavorano a stretto contatto con la cittadinanza. Ho ritenuto molto importante che anche gli artigiani donassero il sangue. Questo input mi è stato dato dal professor Mandelli, che ho conosciuto dietro le quinte delle reti Fininvest, che una volta sono andato a Roma, e mi ha parlato tanto dell'ondazione del sangue e dell'importanza. Come diceva il professor Mandelli, il sangue non si può costruire in laboratorio, ma bisogna donarlo. Tante anche le divise delle fiamme gialle, la cui dedizione all'altro, come ha precisato il comandante della compagnia di Fano, Leuzzi, si inserisce nelle funzioni istituzionali dello sviluppo di una società basata su valori civici e morali. Generosità, attenzione verso il prossimo e spirito di servizio a tutte le caratteristiche che vi contraddistinguono anche oggi. Si tratta di una iniziativa importantissima che ha visto coinvolti numerosi appartenenti della Guardia di Finanza e del Comando Provinciale di Pesaro. Un'iniziativa che nasce appunto dai valori che contraddistinguono la nostra istituzione, che è incontro al cittadino e soprattutto finalizzata all'aiuto dell'altro e delle persone che hanno bisogno. Questa mattina siamo cinque donatori più due aspiranti donatori. Un grande esempio di generosità che appunto contraddistingue il corpo della Guardia di Finanza anche in questo settore. A dare buon esempio anche il presidente della Visfano, Marco Savelli, che dopo aver accolto tutti i protagonisti della giornata, si è accomodato su una poltroncina rossa e ha donato il plasma. Sì, oggi siamo in tanti a donare come tutti i giorni, in particolare questi bellissimi Donor Day. Scherzando, siamo riusciti a mettere insieme come Avis controllori e controllati. E devo dire grazie veramente a tutti coloro che vogliono bene all'Avis e consentono ogni giorno di arricchire l'anima e il cuore di tante persone che hanno bisogno di noi. Grazie.